Consigliere del territorio tra l'altro abita proprio in uno dei comuni e lavora in uno dei comuni più colpiti da questa ondata di maltempo. Nella nostra zona è stato il vento a fare i danni maggiori, lei ha fatto una ricognizione, l'abbiamo visto sul territorio. Sì, io questa mattina ho fatto un giro qui nella Val di Chiana, zona Badialpino, Pievaltoppo, Tegoleto, che è stata diciamo una delle zone più colpite da questo forte vento, che ha fatto dei grandi danni perché ha battuto alberi anche centenari, oserei dire, ho visto tronchi rotti in due e in alcuni casi sono andati proprio a colpire delle abitazioni, delle civili abitazioni piuttosto che delle attività produttive, oltre che creare danni a automezzi vari, insomma direi che è un problema grande. Nel resto della Toscana il problema è stato maggiore perché anziché il vento a colpire è stato proprio l'acqua, sono esondati vari fiumi nelle zone di Campi Bisenzio, Pistoia, Prato. La cosa peggiore è che ci sono state anche delle vittime e quindi nella zona soprattutto del Fiorentino, del Pistoiese, e questo è il problema più grande, i danni purtroppo sono stati inevitabili e come sempre le popolazioni si dovranno dare da fare per ricostruire la nostra vicinanza e soprattutto le famiglie delle vittime che in questo momento stanno vivendo momenti veramente drammatici.